Whisky, bugie e sottovesti Per quanto riguarda l'interpretazione non è stato un grande sforzo perché è abbastanza divertente come ovviamente è nelle mie corde, però nel complesso la visione di queste quattro squinternate è veramente un quadro idilliaco al contrario nel senso che sono veramente quattro personalità disagiate, disadattate, però un totale fallimento proprio dell'intelligenza umana. Whisky è una commedia indefinibile, non è classificabile, è un'esperienza veramente da provare perché è veramente surreale, non c'è una cosa che leghi con le altre, è tutto veramente un... Come avanti? 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 Come avanti?